Buongiorno a tutti carissimi, bentornati in questo spazio dove non ho fatto nemmeno tempo a pubblicare il video di ieri dove parlavo dell'enorme potere di personaggi come Bill Gates, George Soros, Melinda Gates. Andate a vederlo per chi non l'avesse visto. Proprio ieri mattina l'ho pubblicato spiegando che è folle, è assurdo vedere che singoli individui che hanno delle ONG, organizzazioni non governative, che muovono miliardi e miliardi, è assurdo vedere che questi individui praticamente sono più dentro le politiche degli stati di quanto non lo siano i nostri presidenti del consiglio e i nostri parlamentari. Ho portato unicamente a riflessioni oggettive, fatti inconfutabili, ad esempio il fatto che l'associazione Bill e Melinda Gates si occupino di vaccini da anni ormai e finanzino pesantemente l'OMS, quindi sono dei privati che finanziano un qualcosa che dovrebbe essere nelle mani degli stati, delle democrazie. Come Melinda Gates sia co-presidente di uno dei più importanti organi delle Nazioni Unite per la progettazione delle politiche che riguardano tutto il mondo del digitale e delle tecnologie. Quindi in mano, e vi dicevo, Bill Gates non faceva il fabbro, quindi la sua Melinda, sua moglie, è co-presidente di un board, di un gruppo che praticamente controlla le politiche dello sviluppo digitale e tutto quello che segue. Dall'altra parte i vaccini, l'OMS, la salute, quindi più o meno hanno le mani in un paio di settori tra i più importanti al mondo. Ecco, la questione del conflitto di interessi è terrificante. Soros, lasciamo perdere, se volete andate a vedervi quel video. Sono stato a questi fatti, tutto qui. E sono cose importantissime, cioè credo che dovrebbero proprio spingere la nostra politica di parlamenti, di stati sovrani, ad allontanarsi da certi individui. Se tu vuoi fare una donazione è una cosa, ma tu doni e poi sparisci. Non è che tu doni e poi spieghi al mondo dove deve andare e cosa deve fare, capite? Ecco, ho fatto questa riflessione, io non lo so. Questi corrono ad una velocità che non gli stiamo dietro. TG1 delle 20, Bill Gates, presentato come Dio, è sceso Dio, Conte si sentirà con Bill Gates per le politiche di risposta alla pandemia al coronavirus. Il buon Gates sta già sperimentando in varie città italiane i suoi grandi piani e progetti per la salute globale. è una cosa allucinante. Adesso vi faccio vedere alcuni passaggini che sono fatti. Non sto facendo cospirazioni, non sto facendo complottismi. Provate a vedere a che livelli siamo arrivati e nessuno vede un leggero conflitto di interessi, un rischio immenso per la nostra democrazia, anzi io credo che sia proprio averne sancito la morte, è un rischio per la nostra vita, la nostra salute. È incredibile. Seguitemi un secondo per favore. Esecutivo al lavoro sulle misure economiche, impegno con i leader europei per il vaccino, telefonata tra Conte e Bill Gates. Un secondino qui. Cioè, impegno con i leader europei, telefonata fra Bill Gates e Conte. Conte, prima di sentire i leader europei, chiama Bill Gates. Io non devo dire niente, non devo aggiungere qualcosa. Non ha chiamato Macron, la Merkel, sente Bill Gates. E questo è il telegiornale delle venti. Andiamo avanti. L'appello di Papa Francesco. Preghiamo per i politici che devono fare scelte difficili. Restino uniti, solo così si supera la crisi. Passaggino delicatissimo. Abbiamo anche l'amore e la benedizione del nostro pontefice. Quindi ti fa sentire che i nostri politici, che stiano uniti, ti fa sentire bene. Non ti devi preoccupare. C'è anche l'amore del pontefice, della Chiesa. È tutto benedetto. Non c'è nessun problema. Va bene. Per il Premier telefonata con Bill Gates, che con la sua fondazione in prima linea per sostenere la ricerca per il vaccino. Scambio di vedute in vista della conferenza europea di lunedì, dedicata proprio allo sviluppo di misure contro la pandemia. Non abbiamo appena costruito 50 task force con 40 persone dentro per rispondere alla crisi. Abbiamo l'Istituto Superiore della Sanità. Adesso siamo finiti a Bill Gates, che appare dal nulla e guida il nostro governo. Ma proprio il nostro governo. L'Italia credo che sia uno dei paesi più compromessi. Forse è una terra di esperimenti, per tanti motivi. In realtà temo che non sia Conte che chiama Bill Gates. Bill Gates gli ha detto guarda che devi fare così, adesso vengo. A noi ce la devono passare che Conte chiama Bill Gates. Non so in quale processo democratico. A voi non so se questa cosa non vi fa venire voglia di dire ma perché non spariscono questi politici? Abbiamo un'infinità di medici, come vedremo fra un secondo, che hanno fatto un lavoro meraviglioso, stanno lavorando su questo problema sanitario. Dicono che sono ormai alla soluzione ad aver trovato delle risposte e noi ci dobbiamo mettere in mano delle ONG che hanno enormi lati oscuri. Visionario futurista profetico, Bill Gates già nel 2015 aveva immaginato il dramma della diffusione di un virus. Visionario futurista profetico. Allora, intanto ce lo stanno sempre più dipingendo. Guarda, tra un po' vado a pregare su un altare con lui. Gesù, Buddha, tutta quella gente. Ci sono i nuovi santi, lo scientismo, ne ho parlato tantissimo. Oggi conta più Elon Musk, Musk, Bill Gates, Bezos che Papa Bergoglio. Magari ha anche qualche responsabilità. Ma profetico. È stato profetico quando disse che in ogni casa ci sarebbe stato un computer. Scusate, ma è sbagliata la parola. Non è stato profetico, è stato un grandissimo uomo del business. Perché te li ha messi lui attraverso tutta una strategia di implementazione di quelle tecnologie e la necessità sempre più di averle quelle tecnologie. Perché oggi, ad esempio, chi di voi volesse lavorare senza un computer finirebbe probabilmente a raccogliere lattine per la strada. Questo non vuol dire essere profetico, vuol dire fare business. Ora, sui vaccini, magari non sto dicendo che ha provocato la pandemia. Ha avuto l'occhio lungo e ha detto aviaria, SARS, il prossimo business saranno i vaccini. Occhio lungo, investo pesantemente su questo settore, la salute e la sanità. Che profezia è questa? Adesso il problema che si pone di salute, di pericolo per la salute e di conflitto di interessi è ma se altri scienziati, come vedremo fra un secondo, molti altri paesi dicono guarda che non mi serve, tenetemi Bill fuori dal mio stato, sto risolvendo all'interno della mia dimensione politica, scientifica, di sanità del mio paese, democratica questa questione, ci sono terapie che funzionano, stiamo sviluppando noi il vaccino. Capite che il profeta a questo punto, se ha grande potere, può influenzare le politiche e dire no, no, adesso dovete pigliarvi il mio vaccino. Infatti adesso vedremo che sta già sperimentando in molte città italiane, sta sperimentando, sta svolgendo i suoi lavori di grande filantropo attraverso la sanità. La nostra sanità e c'è uno sconosciuto che sta già lavorando dentro varie città nostre, quindi vuol dire negli ospedali, in centri che poi fanno test, ti prelevano il sangue, ti mettono nel sangue. I software della sua Microsoft avevano la strana tendenza a bloccarsi ogni volta che era su un palco. Eppure lui ha sempre tirato dritto senza mai cambiare nemmeno taglio di capelli, arrivando ad accumulare un patrimonio stimato in 100 miliardi di dollari. Bill Gates, l'uomo delle profezie, alcune realizzate, un computer in ogni casa per citare la più famosa, altre no. Ma ce n'è una in particolare, tornata oggi alla ribalta, un nuovo virus potrebbe fare un'ecatombe e causare una catastrofe economica, disse nel 2015. Una riflessione sulle elezioni ricavate dalle epidemie di ebola e aviaria perché danno ormai. Invece che godersi la sua fortuna, Gates prova a far la differenza anche fuori dal mondo digitale, investendo contro malattie come AIDS, malaria e poliomelite. Qui un altro passaggio che è quasi inascoltabile. Invece di godersi la sua immensa fortuna, sta aiutando il mondo. Cioè, proprio è meravigliosa questa cosa. Ma, primo, quando si arriva ad avere fortune che nessun essere umano, dal mio punto di vista, dovrebbe avere, perché appunto singoli individui hanno più potere di stati, come dicevamo nel precedente video, e quindi possono dirigere proprio il percorso, determinano il percorso che il mondo avrà, e quando si arrivano a quei livelli lì, i soldi non ti interessano nemmeno più. L'ego umano, dato che la maggior parte di questi soggetti non mi pare per nulla risvegliata, non abbiamo un Buddha, un Gesù di fronte, l'ego umano ad un certo punto non sa più dove potersi aggrappare per godere ancora, per espandersi ancora di più. E quindi si costruiscono questa idea di essere anche dei salvatori del pianeta e determinano il futuro del pianeta. Ma secondo voi è corretto che pochi individui abbiano la possibilità di fare questo? Cioè, non c'è proprio la devastazione dei processi democratici? Ma dobbiamo accettare tutto ciò? Ma addirittura buttato nelle nostre tavole alle 20, alle 20 dal telegiornale. Ecco, nel 2018, mentre illustra il progetto di reinventare il water nei paesi africani, dove non esistono sistemi di fognature adeguati. Inevitabile dunque che il programmatore divenuto filantropo si unisse alla crociata anti-coronavirus. La sua fondazione ha attive 48 iniziative in 12 città italiane sul fronte della diagnosi e delle terapie. Inoltre ha già messo sul piatto 250 milioni di dollari per la ricerca di un vaccino e Gates è in prima linea per coordinare gli sforzi a livello globale, come quello di Oxford. Un processo che dovrà mettere in conto passi falsi, ma lui non è uno che si scoraggia e ha già promesso se il vaccino è valido, lo finanzio io. Dice, è un processo che dovrà mettere in conto passi falsi, ma lui è uno che non si scoraggia. Beh, certo lo sappiamo che non si scoraggia, è un grandissimo imprenditore. Il guaio è che, ad esempio, per quanto riguarda i vaccini, ci sono in corso processi penali gravissimi proprio rispetto alla fondazione Bill e Melinda Gates per le vaccinazioni, ad esempio, ad ampio raggio che hanno fatto in India. Questo non te lo dicono. Cioè, ci può essere un problema, ma lui non si scoraggia. Sì, però il problema che ricade sulla popolazione può essere letale. Allora, non ce l'ho con Bill Gates. Io ce l'ho proprio col sistema democratico del nostro paese che si è sbriciolato. Il sistema mentale e psicologico di noi, i cittadini, si è sbriciolato se accettiamo un qualcosa del genere. Perché il buon Bill può dare miliardi allo Stato italiano volesse fare donazioni con la sua ONG. Può inventare il bagno più igienico che ci sia per alcuni villaggi dell'Africa. Cioè, ci sono dei livelli dove le ONG possono intervenire, ma chi vuole contrastare questo? Ma lo vedete? Qua siamo proprio ad un livello di stravolgimento del pianeta. Cioè, i pochi che pensano dei business, si infilano dentro l'OMS, dentro le Nazioni Unite, hanno rovesciato il funzionamento del sistema. Cioè, non è più dai molti, dalla partecipazione, si giunge ad una strada da percorrere, ma dai pochi si va ai molti e si determina il futuro dei molti. Qualcuno di voi dirà, ma povero Fesso, non sapevi che era così anche prima. Certo, lo è sempre stato, più o meno. Ma adesso stiamo arrivando veramente all'accentramento del potere nelle mani di pochissimi e, pertanto, il pericolo è mostruoso. Se lo uniamo poi alla potenza devastante che può avere la tecnologia oggi, non siamo più nemmeno nella Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo visto che danni si sono prodotti con la tecnologia. Aerei, bombardamenti, delle armi devastanti, Hiroshima e Nagasaki. Noi oggi siamo ad un controllo invisibile che può essere psicologico, che può essere sociale attraverso la geolocalizzazione, i droni, le app. E questi controlli, pensate YouTube, Facebook, tutto il mondo, Google, sono in mano a pochissime persone. Il controllo oggi, potenzialmente, è totale. E qualcuno, ve l'ho già detto, parlando con le persone, più volte ho sentito dire, ma che mi controllino? Io non ho nulla da nascondere. Tesoro, non è il fatto, se hai qualcosa da nascondere, se hai la suocera morta nell'armadio. Il fatto è che se loro decidono di farti vivere strisciando, non si può più opporre nessuno, perché il potere che è in mano di pochi è tale, anzi, è anche un potere di condizionamento psicologico che ti possono far credere che sia bello strisciare e non camminare, anche se Dio ti aveva fatto con due gambe per stare in piedi. Non vedere questo è scioccante, vuol dire che hanno già bollito il sistema neuronale delle persone. La sanità, lo sviluppo che la tecnologia deve prendere nel futuro, o torna ad essere un dibattito pubblico, tornano ad esserci scienziati, soprattutto in questa fase delicatissima, estremamente liberi, che possono condividere pensieri, valutazioni e poi che possono condividerle e devono essere discusse poi ad un livello politico, ad un livello psicologico, antropologico, sociale, non può unicamente essere il business e la scienza più svincolata da ogni tipo di pensiero di benessere collettivo che determinano il futuro della sanità, del controllo delle informazioni, del mondo digitale, di qualunque tipo di sviluppo ulteriore scientifico. Oggi abbiamo il business e la scienza, scienza priva di coscienza e business, parlamenti, dibattiti, filosofi, psicologi, cioè la psiche, come può rispondere la psiche ad esempio l'ingresso del 5G. Lasciamo perdere se il 5G fa male o non male a livello proprio fisiologico e per quel che ho potuto leggere, informarmi, io sono dell'idea che non farà di certo bene, ma la velocità che potranno prendere tutti i sistemi informatici, ma c'è qualche psicologo, avete letto qualcuno? Solo i danni che ha già prodotto Facebook e tutti questi sistemi di informazione, io la chiamo a ruota che scende, bombardamento, velocità, sono già danni gravissimi che hanno già in un certo modo destrutturato il modo di pensare soprattutto dei ragazzini, ma anche delle persone di mezza età, perché passiamo un tempo mostruoso sui social, in tv, dove anche la tv ha iniziato ad applicare questo sistema, perché la mente è stata cambiata attraverso i social e quindi la tv funziona a spot, interventi, insulti, grida, e perché così ti tengono aggrappato, il ragionamento, tipo questi video vedo che un po' vanno, ma il ragionamento più completo, più lento, sta diventando sempre più eleitario per pochi, perché le persone non riescono a seguirlo, si annoiano subito, le abbiamo intossicate da eccitazioni, ecco il 5G che cosa può provocare? Come velocità, come proprio risposte addirittura impercettibili della comunicazione e della velocità di interazione, più tutto il resto che non vado nemmeno a discutere perché stanno pianificando degli sviluppi terrificanti, dato che non vengono ponderati, pensati, sono cambiamenti che secondo me avrebbero bisogno di decenni e ben setacciati, vagliati, loro li vogliono realizzare in qualche anno. Bene, ci fermiamo qui, vi ricordo solo che 100.000 medici avevano firmato una petizione, una lettera che è stata mandata al governo dicendo guardate che stiamo improntando noi una serie di risposte a questo virus e stanno funzionando, dobbiamo strutturare in un certo modo la prevenzione e la cura. Vi metto qui sotto un link che manda ad un articolo dove si dice che il professor Giuseppe De Donno, primario del reparto di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, ha con il suo staff raggiunto una possibile cura che sembra funzionare molto bene. in Svezia ad esempio non parlategli di Bill Gates vaccini perché seguono un'altra strada che sembra che stia funzionando, non capisco per quale motivo se ci sono risposte alternative estremamente meno inquietanti, dove viene rispettata intanto la forza interna di un paese, le sue risorse, le sue menti, ogni paese ha un suo equilibrio interno. Dove tutto ciò viene rispettato c'è meno inquietudine, meno paura e funziona anche quella brutta parola, c'è democrazia, politica, governo. L'Italia perché deve essere proprio un esperimento sociale dei personaggi più ambigui o dei più grandi speculatori del mondo. Sono sconcertato non dai Bill Gates ma dai nostri concittadini. Spero che passi sempre di più la consapevolezza che ci stanno togliendo tutto. Noi non abbiamo più voce in capitolo e c'è una narrazione viziata, faziosa, manipolativa su tutti i canali ormai. Guardate il telegiornale ha fatto passare Bill Gates come Gesù, il salvatore, il nostro presidente chiama Bill Gates. Siamo ridotti... noi per fare qualcosa in questo paese chiamiamo la Merkel, Macron, Trump, il governo cinese, chiamiamo Bill Gates, siamo allo sfascio. Oltretutto chiamiamo anche poteri particolarmente diversi perché abbiamo fatto gli accordi per la via della seta, il 5G con i cinesi e gli americani sono totalmente contrari. Abbiamo 110 vasi americane sul suolo italiano, fra un po' scatto un conflitto qua e rischiamo di avere le stesse tensioni che aveva la Siria, cioè quando degli immensi poteri si trovano su un territorio, che hanno avuto i Balcani con la balcanizzazione. Vedrete, qui non ci bombarderanno probabilmente perché oggi sono state superate quelle guerre, sfasceranno il nostro territorio, i nostri governi, non riusciremo mai ad avere un governo con altre strategie. Se la politica nostra, noi come cittadini, non torniamo ad avere un pensiero più consapevole e più almeno univoco, cioè almeno decidi da che parte stare e costruisci un qualcosa con quei tuoi partner, non puoi avere un pezzettino della politica del paese che sta col partito comunista cinese, l'altro che sta con i repubblicani di Trump, un altro pezzo è con Putin, sapete è un po' come avere una persona, come si venivano torturate nel medioevo, legata mani e piedi a 4 cavalli e poi far partire i cavalli. Ci vediamo al prossimo video fratelli, condividete, condividete, non c'è rimasta nessun'altra arma che condividere e pensare. Ciao a tutti.